Adesso qui con Gianni, che giorni sei tu Gianni? Martini, Sperandio. Sperandio dei Martini? Sì. Ti stai a San Geronti? Sì. Quanti anni hai tu Gianni? 72. Tu hai 72 anni? Ehi, baista. Ti porti da Dio? Sì. Gianni, ma quanto tempo ti hai sempre fatto il pastor qua con i piegoli fuori? Amico, ho sempre lavorato. 18 anni ho compito in Canada. In Canada? Sì. E cosa fai seguito in Canada? Io ho due o tre lavori. Stai a destirare che ti si beva fa il sole, perché non ti disturbi. Sì, era il debito che superava il capitale. Sì. Sì. Il mio padre aveva questa sua parte e ora... Eh. Il mio parente è venuto a me, posso impiegare una fabbrica. Posso imprestare di scape, perché fino agosto ne vengono a casa. Dopo, se tutti andassi in America, faccio fortuna. E ti sei nato in America? Sì. E dopo ti sei tornato a casa dall'America a quanti anni? Dopo due anni. E dopo ti sei venuto a casa, ti sei lavorato... In fabbrica? In fabbrica. E dopo ti sei messo a fare quei piegoli? Sono andato in pensione. Ah! Ti piace questo lavoro qua? Insomma... Ho fatto tirare anche qualche bestia, ma... Eh. Ma ti sei... Ciao! E quante bestie hai tutti, Gianni? In casa? No, qua. In tutto. Che ti tendi? Quante piegoli? 98. Perché i conti a pezzi e che ti tendi? I conti a pezzi? I conti a pezzi? Cioè... Come una presa, no? Eh no, no. Sono mia come funziona. Spiegami. Cosa vuol dire? Il conti a pezzi? Eh? Ah? Sì? Ma chi sei che gli è tosato? I porti tu a tosare ora? I vien tosati? Sì, sì. Ma... Questa è una donarina, bravo che non so. Sono d'ora e mi ha tosato tutti. Ah che bravo! E mi invece... Devo andare a tosarmi anche mia lana che ho la testa però. No, non la cammina, ma fin al tempo non si porta. Ma anche se stavo a 10 anni passai qua. Sì. Ha fatto tempesta e era tutto bianco. E ti arrivi su ogni dì? Ora ti vai su e su e su ogni dì da qua. Ti arrivi su quel tuo fiorino bianco? Ti spanchi tutto? E qua c'è chi c'è la strada per qua? Eh sì. Beh ma ti fai il giro per qua e sarai, no? Non te li ha fai. Ma come hai fatto? Non vuoi andare a picciarmi su burri? E ora ti vai su per la cadorna? Un po' per la cavra. Ah, per la cavra. Sì, sì. E beh, bravo. Ma se è stretta, no? Eh, non è bella. Lo so, c'è la paura. Sai che non c'è più nessuno che viene su? Non c'è più nessuno. Come si chiama il can? Moro. Moro. E poi hai un nome? Qualche d'una o... No. Non ti interrompi il tuo nome? E se hai messo i nomi. Ma a casa che tu hai altre bestie, Gian? Ma che... Ma che... Ma che torri. Quante chi ne hai tu? Di sete. Di sete? Anche torri te che? Di sete. Di sete. Di sete. Di sete. Di sete. Di sete. Che bello. Ma dove sei che te che ora? In fattoria? Che te ti hai bestie a San Zenon? Che zona sito? Il distributore di benzina. Che ne è uno solo. Eh. La strada che vado parlando. Ah, ho capito. Ho capito. Che tu hai messo anche? Sì. Ah, ora ti fai il salame bonti. Sì. Vado qua. Ti fai bonti. Ho capito. E qua siamo... Che nome hai questo posto? Ardozeta, sì. Qua siamo all'Ardozeta. Eh sì. Anche perché... Areola. Questa è l'Ardozeta. No, ti portavo 60 vaghi qua sotto la strada. Sì. Stavo io con 60 vaghi. Ma chi? Paruni è l'Ardozeta? No. Ah sì? Con 60 vaghi. Sì. Con 60 vaghi. Sì. Ho fatto bene. Hai fatto un bel lavoro. Moro. Che bello. E lui è il tuo compagno? S'aiuto agli amici qua che guarderà il video. Fagli un ciao a tutti. Sani. Ciao a tutti. Sì. 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 Sì.